Il suo sorriso, il suo esempio di vita, la generosità e la tenacia della giornalista lucana Alessandra Bisceglia rivivono nell'aulamagna dell'Università Lums di Roma per iniziativa della Fondazione Viva Ale. È una fondazione di ricerca che tiene presente anche una grande esigenza, quello di parlare con il linguaggio nuovo di una comunicazione che guardi al sociale, ai problemi del sociale e soprattutto al modo di raccontare il sociale e nell'ottica evidentemente del miglioramento di una serie di iniziative che fanno riferimento non solo alla salute ma anche ai linguaggi della comunicazione. Il convegno è stata un'occasione per riflettere in una tavola rotonda sull'importanza della comunicazione sociale, in un particolare momento in cui il mondo dell'informazione rischia di perdere di vista i valori da divulgare nella società. In un momento in cui c'è una crisi di valori, una crisi immorale, tanto disagio sociale nella società civile, è opportuno che coloro che hanno responsabilità nel settore della comunicazione debbano svolgere un ruolo serio. Tante le testimonianze di stima e di ammirazione da parte dei colleghi che l'hanno conosciuta. Emilio Carelli, direttore del Master in giornalismo della Lumsha, Paolo Ruffini, direttore TV 2000, Roberto Natale, ex sindacalista e portavoce della Presidente della Camera, Oreste Lopomo, giornalista e componente esecutivo nazionale dell'Ordine. Anche la professoressa Donatella Pacelli, sua relatrice alla Lumsha, l'ha ricordata nel suo discorso di presentazione. Alessandra era una giornalista, una giornalista molto determinata, molto motivata, che per doti sue, per esperienza di vita e di sofferenza, si è mostrata sempre particolarmente sensibile ai temi del sociale. Chiaramente non si viaggia mai solo sulle proprie gambe e l'Università ha bisogno di promuovere premi giornalistici e comunque sostenere l'impegno dei giovani a professare questa professione che tra tante insidie rimane comunque bellissima, ma chiede una grande etica della responsabilità. La cerimonia di consegna del Premio Nazionale Alessandra Bisceglia vede protagonisti infine giovani giornalisti che si sono distinti nel loro attivismo sui temi sociali. Tra questi anche Valerio Toma, studente del Master della Lumsha.